Benvenuti su Calcio360, il posto giusto per chi ama il calcio. Shock per l'ex Serie A, accusato d'omicidio, ora è nei guai. Guardate il video per intero per scoprire tutti i dettagli di questa terribile accusa, ma prima di iniziare vi invitiamo ad iscrivervi e attivare la campanella per sostenere questo canale e non perdervi i nostri prossimi video. Un piccolo gesto per voi, ma di grande importanza per noi. Grazie amanti del calcio. Un episodio scioccante ha colpito l'ex giocatore della Serie A, ora accusato di omicidio. La notizia ha già sconvolto il mondo del calcio. Spesso si pensa che i calciatori vivano vite straordinarie, distanti da chi li ammira dagli spalti o da casa. Tuttavia, episodi come questo riportano la realtà in modo crudo. La notizia ha colpito come un fulmine. L'ex giocatore della Serie A, Carlos Salcedo, è accusato di omicidio. Una situazione gravissima che ha lasciato tutti senza parole. I calciatori di solito sono protagonisti di sogni e passione sportiva. Ma quando finiscono nelle pagine di Cronaca Nera, la reazione è sempre di incredulità e shock collettivo. Carlos Salcedo, ex Fiorentina e ora al Cruz Azul, è accusato dell'omicidio della sorella Paola. La notizia ha scosso profondamente la comunità calcistica e non solo. Secondo le ricostruzioni, Paola Salcedo è stata avvicinata in strada e colpita mortalmente da proiettili sparati da un veicolo. Una tragedia che ha subito fatto il giro del mondo. Sui social, la madre di Carlos ha accusato il figlio di essere il mandante dell'omicidio. Questa rivelazione ha gettato ulteriore sconcerto sulla vicenda. Si dice che Carlos Salcedo voglia lasciare il Messico a causa di queste accuse. La situazione è in evoluzione e tutti attendono ulteriori sviluppi. Questo caso ha lasciato tutti a bocca aperta. Le accuse sono gravi e la comunità calcistica e non solo segue con attenzione ogni nuova informazione. Cosa ne pensate? Se volete condividere la vostra opinione su questa questione spinosa, lasciate un mi piace e fatecelo sapere in un commento. Iscrivetevi e attivate la campanella per sostenere questo canale e non perdervi i nostri prossimi video. Un piccolo gesto per voi, ma di grande importanza per noi. Grazie amanti del calcio. Grazie